Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, code per traffico intenso tra Firenze Nord e la variante di Valico. Sulla FIPILI per lavori, due chilometri di coda in direzione mare tra la Strassinia e Ginestra Fiorentina, un chilometro in direzione Firenze tra Empoli Est e Ginestra. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in pruneta. Buon sito Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!